ben ritrovate all'appuntamento del venerdì con il patchwork emozionale e prima di iniziare il progetto di questa settimana vorrei che ci soffermassimo so che già lo fate ma che ci soffermassimo tutti un attimo per portare mandare energia luce a tutto quello che sta succedendo noi non possiamo fare molto ma sicuramente possiamo mandare tanta energia e tanta luce a tutto il popolo ucraino al popolo russo che magari non voleva essere coinvolto in questa situazione quindi non giudichiamo semplicemente mandiamo energia mandiamo luce affinché tutto si possa risolvere al meglio e adesso vi faccio vedere il piccolo progetto di questa settimana ho pensato ad un cuscino lungo da mettere sul divano oppure sul letto è una cosa che io trovo simpaticissima guardate sono degli ombrelli è vero ma divertentissimi con questi colori con questi toni possiamo farli con tutti i toni dell'arcobaleno per esempio io adesso ho già fatto questi e andiamo a fare insieme questo in modo che vi spiego un attimino passo passo come funziona poi lo collegherò a questo in modo che viene fuori vengono fuori tutti e tre gli ombrelli e poi facciamo il retro con che diventerà un cuscino praticamente bene andiamo a lavorare il progetto come vedete si presenta così poi qui andremo ad aggiungere l'altro blocco io ho creato tre blocchi per fare il cuscino lungo questa idea dell'ombrello così divertente così gioioso mi sembrava veramente carinissimo perché il mese di marzo è comunque un mese un po di pioggia e poi pensate alla canzone sing in the rain cantando sotto la pioggia bellissimo e quindi niente questo cuscino mi piaceva crearlo così gioioso allora cosa abbiamo bisogno qui dipende moltissimo da quello che voi volete fare come colori come vedete io ho usato dei colori molto vivi ho usato il giallo il giallo arancio il viola con il turchese e il verde con il giallo ma ognuno di voi può usare un colore può usare vari colori che gli diano quel tipo di emozione io sotto ho usato questo tessuto questo tessuto che è un tessuto musicale anche qua questa idea della canzone e l'ombrello veramente mi sembrava perfetto una delle dei materiali di cui avete bisogno assolutamente è la carta adesiva allora io vi consiglio la ez steam della legacy quella riposizionabile da un lato per chi lavora già con la legacy è la 084 chiaramente se non avete già il materiale legacy ovviamente trovate quella che più vi si quella che più usate o che conoscete questa riposizionabile perché perché vi permette siccome sono tanti pezzi vi permette di muovere meglio senza sbagliare perché una volta che avete stirato ovviamente poi non potete più togliere quindi usando la riposizionabile io mi muovo per cercare l'abbinamento giusto il modo giusto dopodiché stiro naturalmente c'è un cartamodello che darò solamente a chi me lo chiede perché l'ho fatto io l'ho modificato io e quindi non lo voglio dare così l'ho preso dal web era piccolo l'ho ingrandito e ho ricavato i vari pezzi quindi chi me lo chiede lo avrà perché ovviamente è gratuito allora c'è il pezzo completo e il pezzo invece staccato c'è la parte superiore come vedete dell'ombrello e il manico ok quindi sono vari pezzi cercate gli abbinamenti se in questo non so questo per esempio che è un tono di arancio giallastro quindi giallarancio vedete che all'interno ci sono dei pezzettini di colore aranciati io ho usato l'arancio in questo caso ho usato il batik perché perché mi permette di avere delle gradazioni di colore fantastiche ma se avete dei tessuti che vi piacciono usate quelli questo ad esempio è un altro dei colori che mi piacciono moltissimo questo è di caffè facet ripeto usate i colori cercate però gli abbinamenti cercate di portare quel tipo di emozione che volete dare al vostro cuscino io sono rimasta in un tono molto gioioso molto allegro anche se la pioggia magari non è così allegra a volte perché un conto è la pioggerellina un conto è quando viene giù molto forte però io volevo dare questa così queste emozioni di allegria e poi ho scelto l'ultimo il verde con vedete le sfumature comunque di toni giallastri e poi di nuovo ho utilizzato questo è un grunge come tessuto i toni del giallo una volta selezionati i tessuti che andremo ad usare primo prima di tutto prenderemo la carta riposizionabile taglieremo i pezzi a misura di ogni particolare quindi l'ombrello il manico tutti i vari pezzi andremo a stirarli sulla carta tessuto e carta insieme dopodiché togliamo la pellicola e cominciamo a posizionare blocco su blocco in questo caso come vedete li ho divisi per colore la base sotto misura 25 per 25 una volta posizionati tutti i pezzi usiamo il filo corrispondente come colore o in alternativa un filo in contrasto ma cerchiamo di fare un bel lavoro qui ho usato il filo turchese qui ho usato quello viola qui sono stata con i toni dell'arancio e qui con i toni più del giallo quindi usiamo i fili per dare più significato a quello che stiamo facendo rimaniamo con quei colori adesso vado a infilare la macchina da cucire e qua userò il giallo e qua invece il verde vi faccio vedere il primo pezzo allora qui sono stata con i toni del giallo e ho fatto il manico dell'ombrello la parte superiore e il pezzo con il giallo se voi notate ho usato il giallo sia sopra che sotto non usate un colore diverso sotto perché comunque vedete è sempre giallo perché comunque quando cucite se viene fuori non è tarato perfettamente la tensione se non è giusta la tensione vi vengono fuori dei pezzettini colorati che non sta bene se non lo fate apposta se non è un qualche cosa che andate proprio a creare quindi utilizzate il filo sia superiore che nella bovina uguale adesso vado a fare il verde quindi la parte del verde parto da qui faccio tutto il giro e arrivo qua ed ecco che ho fatto anche tutto il contorno dell'ombrello e questo è pronto se volete potete anche lavorare in un modo diverso cioè prima fare tutta l'impuntura tutto il punto festone sulla parte intera e dopo fare i pezzi quindi questa parte dell'ombrello metterla dopo visto che è quella che va messa sopra non avete problemi questi li dovete mettere comunque potete benissimo lavorare tutto e questo pezzettino farlo dopo una cosa importante allora quando fate il punto festone mettete l'ago tutto a destra alla fine proprio adesso ve lo faccio vedere dicevo vi faccio vedere allora la posizione del lago nel mio caso guardate questo questo spazio qua vedete che si muove ok io lo metto fino in fondo perché perché lago in questo modo è posizionato vedete tutto a destra il che vuol dire che quando faccio il punto non mi viene una volta in un modo una volta nell'altro ma mi viene perfettamente sempre allineato io vi ho parlato della mia macchina che è una bernina logicamente ogni macchina avrà un suo modo se non potete spostare lago cercate di fare il punto meglio che potete ho congiunto l'altro quadrato quindi adesso ho la mia bella striscia pronta e adesso vado ad aggiungere il retro ho aggiunto il bordo vedete un po diverso è un tessuto di tulla pink anzi sono più tessuti di tulla pink ed è veramente molto particolare e secondo me ci sta benissimo con questa composizione che è emersa trovo che sia stupendo questo cuscino posso lasciarlo così o posso girarlo così mi auguro che questo progetto un po particolare un po diverso vi sia piaciuto iscrivetevi al mio canale youtube cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati e alla settimana prossima ciao